Ci dà qualche anticipazione sul prossimo giro? Quali volete? La tappa che è stata scelta dai follower? A quella, quest'anno abbiamo fatto addirittura di più, perché l'anno scorso abbiamo scelto una tappa, quest'anno abbiamo fatto scelto da loro tante cose, non una specifica tappa, ma tantissime cose riguardo al prossimo percorso. Sicuramente quello che abbiamo scelto per loro è stato di fare tanto sud. Per motivi tecnici, di quantità di spostamenti, non è possibile fare tutto l'anno, tutte le regioni, tutte le province, in Italia è impossibile. L'ultimo anno abbiamo fatto poco sull'Italia, quest'anno abbiamo concentrato una buona parte delle tappe nel centro-sud per riportare in giro anche nei territori magari un pochino meno considerati a volte nella nostra penisola, magari un pochino meno ricchi di montagne o di territori adatti ad ospitare una corsa, ma sicuramente ricchi di tantissima passione e di entusiasmo e quindi questo è in assoluto il più bel regalo che abbiamo fatto, che vorremmo fare a maggio ai nostri tifosi italiani. Bene. Tu seguirai in bicicletta al Giro d'Italia? Ovviamente tutto, in auto. Ecco. Reservandomi la bici per qualche scampagnata al mattino o alla sera, quando si riesce. Giustamente. Allora ti aspetteremo sulle strade regioni d'Italia. Volentieri. A presto. Grazie mille, Marco. A voi.